I dirigenti scolastici del decimo municipio e del comune di Fiumicino scrivono al presidente della regione Zingaretti, esprimendo forte preoccupazione per la ripresa delle elezioni in presenza il 14 settembre e chiedono di valutarne il differimento a dopo il referendum costituzionale. Quello dei presidi delle scuole è un appello accorato. Abbiamo fatto tutto ciò che rientra nelle nostre competenze per meglio realizzare le attività, si legge nella missiva, ma vi sono tuttavia notevoli criticità che non siamo in grado di risolvere. Il riferimento è alla carenza di organico, ai lavori di adeguamento delle strutture non ancora realizzati, alla mancanza di arredi e di spazi per garantire il distanziamento sociale. In questa situazione, avvertono i dirigenti, è scontato che in tutte le scuole sarà necessario tenere la mascherina sempre indossata, che nel primo ciclo di istruzione bisognerà limitare l'orario scolastico, spesso senza neanche poter assicurare la riflessione, e che nel secondo ciclo si dovrà ricorrere anche alla didattica a distanza. In effetti, a una settimana dal suono della campanella, il quadro è impietoso. Basti pensare che all'istituto comprensivo Marco Ulpio Traiano di Dragona devono ancora arrivare i 719 banchi monoposto richiesti, oltre mille al Tuglia Zevi di Casalpalocco, mentre la scuola media Caio Duiglio di Ostia ha annunciato lo smembramento di alcune sezioni di prima in aule di appena 16 metri quadri.